A pochi giorni dalla fine dei blocchi stradali la situazione a Catania è ancora paralizzata e ci vorrà molto tempo per tornare alla normalità. Qui i distributori sono congestionati, la benzina non c'è in tutti i distributori e la gente fa file chilometriche. Un lento e faticoso ritorno alla normalità è quello verso il quale si è incamminata da ieri una Catania stanca e provata dai blocchi stradali che hanno paralizzato la Sicilia la settimana scorsa. E mentre gli scaffali dei supermercati tornano a riempirsi, quel che preoccupa di più gli abitanti etnei è l'approvvigionamento di carburante. Da stamane infatti sono stati riaperti quasi del tutto regolarmente gli impianti di erogazione, ma i tempi tecnici per permettere il rifornimento di tali impianti sta creando non pochi disagi agli automobilisti che ormai da due giorni campeggiano nelle aree di servizio per accaparrarsi il tanto agognato pieno di benzina. E nonostante le lunghe code e i volti snervati ma rassegnati dei cittadini, il presidente regionale della FIGI SC Maurizio Squillaci assicura che in giornata tutto dovrebbe tornare alla normalità con il 75% dei distributori che sarà al regime. Ma con l'approvvigionamento torna paradossalmente il timore di una prossima serrata e questa volta a livello nazionale. Su questo punto però Squillaci sembra essere categorico e ribadisce che anche se ci saranno scioperi nazionali per contrastare le liberalizzazioni, la Sicilia non vi aderirà. Una scelta di coscienza necessaria per non sottoporre gli abitanti a ulteriori disagi. E di scelta di coscienza parla anche il presidente della provincia regionale Giuseppe Castiglione. Oggi una riflessione profonda ha bisogno da parte di tutta la classe dirigente, non solo da parte di chi ha responsabilità politica. In questi giorni abbiamo preferito tacere perché era troppo il chiasso attorno ad una vicenda che ha paralizzato e penalizzato la Sicilia. Riteniamo che il governo nazionale, così come opportunamente il presidente Monti, accogliendo la richiesta del presidente della regione, mercoledì farà la propria parte. Ritengo che debba fare la propria parte, ma c'è anche un ruolo importante da parte della regione siciliana. Da parte degli enti locali ritengo che ad un tavolo di confronto nazionale si debba presentare un governo regionale con le carte in regola. Ritengo che ad un tavolo di confronto nazionale.